È stato trovato il corpo del pescatore rumeno disperso dalla notte scorsa nel canale Fratta a Merlara in provincia di Padova dopo il rovesciamento di un piccolo gommone mentre era a pesca con un compagno che si è salvato. Il capovolgimento è avvenuto in un punto del canale dove c'è un cambio di livello del corso d'acqua. I somozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza insieme alla squadra nautica dei colleghi di Este hanno trovato il gommone che era finito a un chilometro e mezzo dal punto del rovesciamento. Il corpo senza vita del pescatore era 4 chilometri più a valle. La vittima di questa tragedia aveva 27 anni, abitava a Bovolone in provincia di Verona. Sul posto anche i carabinieri.